Il sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Eramo è stato a Roccella Ionica al Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino dove sono intervenuti il Presidente del Consorzio Pasquale Brizzi sulle problematiche inerenti l'ente consortile e il Presidente del GAL Terre e Locridee Francesco Macri sullo sviluppo agricolo del territorio Locrideo. L'occasione della visita del sottosegretario all'agricoltura qui presso la sede del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino a Roccella Ionica è occasione per un confronto schietto e leale con il Governo centrale e specialmente in questi momenti in cui quest'anno si festeggia il centesimo anniversario della nascita del Consorzio di Bonifica ed in particolare con tutte queste avversità, la siccità che ormai è un problema quotidiano cercheremo di sensibilizzare il sottosegretario a portare le nostre istanze presso il Governo centrale e dare delle soluzioni da qui a breve. In particolare mi riferisco sia al problema della siccità che ormai è un problema importantissimo sta portando in ginocchio tutta l'agricoltura del nostro comprensorio ma è un problema nazionale qualche settimana fa si è approvato il decreto siccità, sarà nominato un commissario quindi il Governo ha già attenzionato questa grande criticità non solo qui in Calabria ma in tutta Italia. C'era anche il Vice Presidente Copagri Calabria Francesco Barretta che è intervenuto sul Maiale Nero da Spromonte e la Biodiversità e la Coordinatrice Copagri Giovani della Calabria Roberta Canino è intervenuta su Giovani nel mondo dell'agricoltura. Il comparto agricolo rappresenta per la Locrida un punto di forza espresso attraverso realtà aziendali in ascesa, vocazione identitaria che necessitano di sostegno e di impulso per uno sviluppo maggiore. La presenza della Locrida nel sottosegretario d'Eramo che ovviamente è stato ringraziato è stata anche un'occasione di confronto delle più alte istituzioni nel settore. La Regione Calabria è una regione patria della dieta mediterranea con tantissimi prodotti agroalimentari che rappresentano una eccellenza sui mercati nazionali e sui mercati internazionali quindi è di assoluta sottolineatura la finalità di continuare a sostenere con forza e determinazione il sistema dell'agricoltura della Regione al fianco delle aziende, al mondo anche della zootecnia perché la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'UNESCO e quindi è sicuramente uno dei punti di forza che l'Italia esprime nel mondo è definita la dieta migliore in termini di sostenibilità ma soprattutto è definita la dieta migliore in termini anche di salute quindi una grandissima realtà che deve essere sostenuta. Abbiamo incontrato tanti amministratori, abbiamo incontrato tanti sindaci ho avuto la possibilità di interloquire e confrontarmi con le organizzazioni di categoria con le aziende, con gli agricoltori perché credo che questo sia il metodo migliore per cercare di comprendere fino in fondo quelle che sono le potenzialità non sfruttate che devono essere sfruttate ma anche è il momento per fare un po' il punto della situazione rispetto alle problematiche che comunque quotidianamente si affrontano quindi per conoscere bene il territorio, per poter attuare la migliore politica a favore del territorio, a favore del settore primario bisogna evidentemente anche girare territorio per territorio, città per città.